Non credo allo specchietto retrovisore, non vi perdite in casa perché non veniamo. E così voi venite da Torino. Bella città Torino, bella, 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 bella. E come mai venite a Napoli? Lavoro? Soprattutto noi indoviniamo, indoviniamo. Questi vengono da Torino, che lavoro fanno? Siete dei cioccolatai. Cioccolatai, la cioccolata di Torino, i gianduiotti, la cioccolata, un gemellaggio a Napoli. Bravo, bravo, bravo. Mi da prima fabbrica di cioccolata a Napoli. Come Willy Wonka. Non so, metti un po' a Willy Wonka. Su, no. No? Allora, aspetta, non ce lo dite, non ce lo dite. Voi siete del... che altro c'è stato a Torino? Del Museo Egizio. Del Museo Egizio? Sì, sono delle mummie. Sì, sono delle mummie. E vengono a Pompei, vengono a Pompei e trovano i parenti. Sei parenti a Pompei? Sì? Sì? No? No. Ma che altro c'è a Torino? L'Egizio, la cioccolata e poi... C'è, c'è, l'azienda più importante italiana. Ah, come no, a Torino. La F. La F. La F. VAMOSISSIMA RAI, noi ci abbiamo lavorato. Ma certo, non c'è Rai Torino, ne siamo stati. Che noi facciamo dei video mai corso. Eh, lo sanno, vorrei che non hanno internet a Torino. C'è internet a Torino. Vedete le web serie, ci conoscete, no? No, proprio web serie, proprio. No, nemmeno la Rai. Che altro c'è stato a Torino? Ma tu li vedi? Vedi, è un po' strano. Vedi, che c'è? Chi sta a Torino? Sì, a Torino. Sette a Torino? No, perché c'è il futuro rario? Le sete, il papanero. Pepe nero? Pagnacaldo. Pagnacaldo? Pagnacaldo. Le sette sataniche. Le sette sataniche. I satanisti. I satanisti. No, ci diamo l'è. No, ci fermiamo, c'è una bella sosta. Ci fermiamo, una bella... Eh, sì, ci pigliamo... un vizanto. Non capisci. Ci prendiamo un bel bicchiere dell'acqua della Madonna. Oppure ci prendiamo un chinozzo. Perché c'è? San Bellegrino. Capo? Sì? Manca molto per Napoli. Ci siamo quasi, guarda, quello è il Vesuvio. Il Vesuvio? Eh, è un vulcano. Adesso è spento. St sobbo. Sì, ça va. Sì. È un respiro. Oh, oh, oh. Lì, è questo. Eh, è il Vesuvio. Uh, oh, 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 oh! Sto accompagnando i Traverse Companions Mi brillano le frecce dall'emozione Non vi perdite i Traverse Companions Mi brillano le frecce dall'emozione